Sette, poi vi siete fatti recuperare, però poi nel quinto c'è stata la reazione, soddisfatto? Felice sì, perché capisco e sono il primo a essere arrabbiato per non tanto il terzo setto quanto il quarto. Perché il quarto abbiamo iniziato a fare una palavolo che non era minimamente messa in programma e questo non ce lo possiamo permettere. Contento sì, perché comunque vincere è sempre importante, risalire alla classifica è importante. Soprattutto vincere dopo l'ennesimo ribaltamento dal 2-0 al 2-pari è importante per il morale, è importante per lavorare bene per una settimana, perché anche questa settimana ce la possiamo gestire bene, in modo da inserire anche Karakuta nei meccanismi, perché è importante anche questo, e recuperare, come dicevo prima, anche il discorso di Ozzoi. Quindi contento, ma non totalmente. Una vittoria che arriva senza la Ozzoi, la Ozzoi sarà recuperabile in vista di Bergamo? Vedremo gli esami di martedì, per il resto come è successo in Coppa Italia nel momento in cui un giocatore ha un problema, penso chiaramente al giocatore, ma pensiamo alla squadra e la squadra ha risposto bene su determinate situazioni su cui avevo lavorato in questa settimana. Su altre ci siamo un pochino perse, però molto e più le cose positive. Non c'è più l'assillo della classifica ormai? Ma quello ci sarà sempre, perché tanto se saremo sesti non va bene, se saremo quinti non va bene, come è giusto che sia. Deve diventare per noi un motivo di fame, di rabbia, ci sarà sempre, perché abbiamo fatto due punti, bene, ne abbiamo recuperati due su Busto, perché non so gli altri risultati. L'unica cosa che so è che Busto ieri ha perso. Adesso dobbiamo pensare a cercare di portare a casa la partita con Bergamo. I cambi potevano essere anche un pochettino più veloci, oppure tipo quello della Caracuta e tipo la Belliene in panchina, che non ha preso un muro e ha battuto, non all'altezza delle altre. Sulla battuta non sono proprio d'accordo, nel senso che c'è stato un errore alto, però ha cercato una battuta incisiva. Sul discorso della Caracuta, Caracuta ha fatto tre allenamenti con la squadra e questo chiaramente non è una scusante, ma dare la possibilità di crescere, soprattutto proprio per l'intesa, per me è fondamentale. Questo è fuori discussione. Ripeto, secondo me si è perso un pochino la logica del gioco, soprattutto nel quarto set. Perché nel terzo set siamo stati punto a punto, abbiamo commesso qualche ingenuità, soprattutto quello che a me non è piaciuto, ma che dovremmo far meglio, soprattutto in tante situazioni, che nel momento in cui riusciamo a gestire delle situazioni di muro difesa ottime, dobbiamo essere in grado di alzare bene la palla. Sappiamo a chi dobbiamo alzare e sappiamo dove dobbiamo tirare, perché comunque ci lavoriamo tanto dietro. E quello si è perso un po' nel terzo set e tanto nel quarto. Ripeto, io guardo sempre le situazioni negative perché sono quelle su cui bisogna spingere molto. I primi due set invece sono molto contenti perché la squadra ha messo in pratica tutto quello che era, lasciatemi questa parola, un'analisi tattica e tecnica dell'avversario. Questo è fuori discussione. Però dobbiamo imparare ad adattarci velocemente a un cambio di gioco avversario, perché nel momento in cui si fa un due set così è normale che dall'altra parte si possa, tra virgolette, ottimizzare altre situazioni. Lì siamo stati meno precisi, soprattutto su Crisanti all'inizio e su Zago, che ci ha messo in estrema difficoltà.